C'era un pietro, un ciacquo, un marco. C'era l'ora, questo pietro. Ma non c'è mai stato. Buongiorno, come stai? Andiamo via. Ciao, come stai? Buongiorno, caro povero. Questa è l'anticamera della celebrità. Abbiamo fatto lunghe attese. Se vuoi dedicare una copia al nostro premio Nobel, una penna. Buongiorno. Lei firma a sinistra sempre? Apre a sinistra i propri libri in generale? Può anche darsi. Interessante, però. Perchè? Il suo avvenire, secondo me, anche. Spero molto in questo. E una coppia a me per la collezione. Con te me la caverò con un amichevolmente. Molto bene. E ora imparerà a fare le teli. Allora, cosa ci prepara di nuovo, contanto? Niente, signora. Succede sempre, appena hai finito di scrivere un libro di te. Ma dov'è? Come mi piacerebbe scrivere un libro. dei fondi – questo da mattina – è verenico! Grazie.